c'è ma io non lo so proprio c'è riunimi giro giro ci sono verdure e cose squarate intanto ti ho comprato questo fiore per te non ne vuoi anzi guarda proprio ti regalo tutti i macchi non ne vuoi ma chi è sta novità che in questa casa c'è solo verdure e cose squarate il sedano guardate ragazzi dove in giro in giro c'è solo verdura vedi che io non sogno a dieta non sto facendo nessuna dieta io niente io voglio farmi una caponata sì una caponata di caponatina fammi due cotolette due sono troppo corte una lasagna qualcosa di anche i cosi e allora chi per mangiare io se lo vedo ora ma perché guarda è buono rosicchio un pezzo di sedio non ne voglio io rosicchio un pochino saluta va saluta guarda che buono ora te lo rosicchi saluta va saluta ciao ciao ragazzuoli vabbè i i